Vi ricordate della Granny? Ah, come dimenticarci di quella vecchia! I suoi spaventi! Le sue botte! Ah! I suoi colpi di colpo! Chiuso dentro quella casa muffosa, con anche il nonno, i treni, e tutte quelle cose strane, il bambino ragno! Come dimenticarci di lei? Dovete sapere però che la Granny ha una sorella. Una sorella molto peggiore, di alto rango, inteso di alta risoluzione! È molto peggiore questa e credo che le botte facciano ancora più male! E io stavolta non le voglio! Io stavolta mi sono preparato! Se non puoi sconfiggere le nonne, allora unisciti a loro! Chiamatemi Brunetta! Brunetta la nonna perfetta! Sto arrivando, tesoro! Sono la tua amica! Ah! Non so se pesse! Vabbè, iniziamo prima che sia troppo tardi! Questa qua fa i jumpscare! È cattivissima! Questo gioco si chiama L'ospite! E io non so di cosa parlano! Io sono nonna Brunetta! C'era un'orribile tempesta fuori e non ho mai visto nulla del genere! Fortunatamente ho trovato questo rifugio! Era meglio la tempesta, mi sa! Ciao, tesoro! Sono Brunetta! Ehi, sono tornata qui! Voglio sapere come sta la mia vecchia amica! Vedo che stiamo facendo la sorpressa qua del nonno Gino! Sì, squarta maiali a male nude lei! È brava e forte la grumelda! La signora grumelda fa dei grumi incredibili! Porca trota! Fai la nonna! Fai la nonna! Devo far la nonna! Non si accendono le luci in sta casa! Ah! Meno male! Ah! Ok! Ci sono dei quadri! Ottimi gusti, Bruna! Brunona! Oh! Credo che il nonno sia andato da un pochettino! L'ha messo qua dentro un intercapedine del muro! E si è liberato così di lei! Brava nonna! Brava! Ok! Ok! Devo stare attento perché le nonne sono pericolosissime! Voi lo sapete! Io con le nonne non so le attiro tutte le nonne demoniache di sto mondo! Non so che cos'ho! Ma le attiro! C'è qualcuno qui! C'è la nonna grumosa! Un grande posto pieno di libri! Eccola! Lei da giovane! Sempre stata bella! Sempre stata veramente! Suo marito che era un ghoul di fallout! Ha detto ma che bella questa grumelda! Un altro delle sue figlie! Ecco! Aveva insomma una parentela corposa! Ecco! Guarda qui! Tutti i parenti! Ecco questo è il grammofono! Andava molto di voga i suoi tempi! Ha 155 anni! Forse anche di più! È più vecchia della Elisa e della regina Elisabetta! Mi hanno detto! E questo è quando il nonno ha colpito fortissimo il mignolo su uno di questi mobili di legno! Ha fatto proprio quel verso! È così! Ok! Grumelda! Sono io! Bruna! Bruna sulla luna! Dai apri la tua vecchia amica! Ti ho portato qua le prugne a chilometro zero! Dai! Che fai? Non le vuoi le prugne biologiche dello zio Tobia? Nia io! Ambaraci cicocco! Se se può entrò! Cavolo! Non mi sta riconoscendo! È un brutto segno che mi abbia lasciato qui! Questa cosa non va bene! Dai! Non far così! Non farti desiderar! Mia nonna bella! Foto modella! Hai una cadrega per la tua amica! Che ha lasciati qua! Che fa mal! Niente! Ragazzi! È la fine! Mi posso anche togliere il trasvestimento! Porca trota! È la fine! Stava meglio col cappello! Un cappello lo voglio però! Yo yo yo! Sono Pino il nipotino! Sono venuto a prendere il tuo soldino! Dammi cinquantino! Così sai! Quando sei il nipotino! Che vai dai nonni! Che ti sganciano anche i cinquanta euro! Sei sempre contento! Nonna! Ma ti giuro! Io sono venuto da lì! Io non so che devo fare! Mi sto perdendo! Sono! Sto deambulando peggio di mia nonna! Nel senso non ho la memoria! Non so dove andare! Cos'è questa storia? Mi hai chiuso fuori! Mi hai chiuso dentro! Non mi vuole! Allora io me ne vado! Che cacchio è? Che devo fare? Neanche la torre! Mi sa che devo distruggergli la bolletta del telefono! Guarda qua le sue sorelle! Nonni! Parenti! Serpenti! Non mi piace avere niente da sto! Grumeldas! Sono Pino il nipotino! Mi dai il cinquantino! No? Qualcosa mi diceva che fosse qua? E qua è come i grani! Dobbiamo trovare una maniera di uscire! Era meglio la tempesta! Guarda! La casa della grani è uguale! Sono più HD! Cento... Mila volte peggio! Sono finito nel manicomio dei nonni! Non voglio queste cose! No! 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 Ragazzi! No! Porco schifo! Si è nascosta nella romagna! Mi piace fare gli scherzoni! Non sono morto? Per fortuna il mio cuore ha retto questa cosa! No ragazzi! Ve lo giuro! Io non voglio diventare vecchio! Perché se divento così muoio! Faccio morire gli altri di paura! Punto di domanda che devo fare qua! Quindi lei è uscita! Era dentro l'armadio ammuffito! E lì doveva rimanere! E invece è uscita! E si muove! Ed è più veloce e forte di me! Che sono giovane! E ho 30 anni! E giovane ha 30 anni! Insomma sono anche esagerato! Comunque voglio dire! Pensavo che ancora 30 anni potessi avere la potenza! E no! Mi ha tirato proprio un url! Le sta provando tutte eh! Le sta provando tutte! Tra un po' dentro quell'armadio non ci sarà più una nonna muffita! Ma ci sarò io! Ma spelacchiato male! Mi spelacchia! Mi strapazza! Mi taglia come la sorpresa! È troppo buio! E fa bene! Ma chi sono io? Ma tra un po' neanche servirà a saperlo! Solo la morte ti può salvare! Scritto col sangue di maiale! Ma mi getto a braccio aperte! Dai nonna Broselda! Sei sempre così drammatica! Non lo prendo il tuo libretto! Non voglio i tuoi soldi! Scherzavo! E lo giuri in giurello! Scherzavo! Dai! Vieni dal tuo nipote! Mettiamoci qui! Mi puoi dare da mangiare! Ti giuro mangio tutto! Ho sempre fame nonna! Ho sempre fame! Perché la nonna è contenta! Se ti dà da mangiare! Si sente ancora importante nella famiglia! Le nonne sono importanti! Sono! Sei importante nonna per me! Tranne quando mi stacchi l'osso del collo e vai in full demenza senile e mi picchi col bastone! Lì insomma ti voglio sempre bene ma devi capirmi che insomma non è che proprio... Se fai così però devo portarti in casa di riposo! Qua è questione che se o ci vai tu o ci vado io! Il riposo eterno però! Quello che mi vuoi dare tu! Io voglio dire tu almeno ti sei fatta 140 anni di vita cara nonna! Io avrei ancora una vita davanti! Avrei ancora qualche anno! È giusto! È il ciclo della vita come direbbe Mufasa! No! Però devo dire che hai dei gusti proprio moderni! E ti mantieni anche bene di pelle! Che crema di bellezza usi! Non so non ne so non ne so... Mi sa ragazzi che ho avuto una pessima idea! Credete che funzioni di nuovo se divento... Brunetta! Ciao sono Brunetta la nonna perfetta! Brunetta brunetta la nonna perfetta! Brunetta brunetta la nonna perfetta! Sono la tua amica, sono la tua amica, dai dammi il cinque. Trova la chiave. Devo trovare una chiave. Vedi, è proprio grandi, cioè devo aprire, trovare, sventrà. Ah! Ho trovato la chiave smemorata di una nono. Sono Brunetta, l'amica perfetta. Sono Brunetta. Qualcuno ha un pannolino? Perché mi sto per cagare a Don? Cosso? Vai il tele... Arte da parte. Arte che parte. Sì? Chi è? Sei tu nonno gromoldo? Sgretoboldo? Nonno semiboldo? Non funziona. È una fintoneria. Qualcuno mi ha litato in fassa. Non farlo. Non farlo, nonna. Devo andarti a dare un abbraccio. Sono io, Brunetta! Sono Brunetta! Allora niente prugne. Non te le do più. È una guerra. Se vuoi la guerra, la guerra avrai. Ma baffan cuoco. Ma te spezzo ti spezio ti... con le spezie ti spezio. Ah, la chiave, giusto. Era lì che devo andare. E prendiamolo questo libretto! Prendiamo! Sventro, prendo! Arraffo! La carta dello zio del nonno Peppone! Dammela qui. Oh, ho trovato un pisses. Questa mi sa che è talmente di colpo che non ho fatto a tempo di prendere paura. Se mi li fai così veloci. Ma è solo una nonna con il Parkinson. Dai, 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 dai. Oh, che paura. Aspetta che accendi... No, non puoi farmi così però. Non si chiude dentro il tuo nipotino. No? Smemorata di una nonna, no? Aspetta, la sento. Cacchio, forse è meglio che mi muovo, ragazzi. Mi sa che siamo veramente nei guai. C'è un momento per ridere e c'è un momento per star seri. Ma quello è nonno? Nonno! Nonno grosso! Eh, ti stai pensando addosso! No, dai. Vuoi che ti porti un pannolino? Shift o splintare! Shift per splintare! E quando c'è scritto shift per splintare, non sai che vuol dire! Ah! 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 Si è aperto! Si è aperto! Si è aperto! Sta arrivando? Non sta arrivando. Torno a casa, Alessi. Tempesta, accoglimi. Credo che l'ho scappata. Cioè, appena ho letto shift per splintare, manco speedy gonzale. Tanto era un po' vecchia, quindi faceva un po' fatica, è vero. Dopo gli tolgo la maschera e scubidù. Vuoi vedere che è così? È sempre così. Scooby-Doo-Bee-Doo. Where are you? Mi piaceva che era così, che tipo il mostro in realtà non era un mostro, ma in realtà... Tolgo la maschera e la grandi! Hai capito? Mamma mia, sto manichino, devi smetterla. Moncochino ti chiamerò, perché la nonna gli ha tagliato le braccia, perché lo amava troppo. E ha detto, non mi scapperai più. Sarai sempre con me. Oh, caspiterina. Ti lascio riposare, guarda. Anzi, accendiamo la luce. Facciamo sparire. Stoppeto della natura. Vedi? No, il nonno. Il nonno l'ha fucilato. Ma perché? Io in realtà ho capito il perché. Voglio dire, come compatirlo? Cioè, era la nonna che lo mutilava. Quel sangue era il suo. L'ha tentato di accoltelare il nonno. Nonno, Poretto. Ha detto, ok che son vecchio, ma l'autodifesa la conosco ancora. Si stava solo difendendo. Qua c'è un'altra... Una torcia. Ah, la debolezza della nonna. Fucile no. No, la torcia sì. Il fucile per difendermi no. Va bene. Solo la morte può salvarti. Solo la morte può salvarti. A te non ha salvato molto, nonna. Ho visto il nonno. Ti ha rispedito sulla luna. Va bene, dai. Basta. Basta ora. Rispetto per le persone anziane. Anche se è un po' strana, è una persona anziana. Quindi io la devo smettere. Le nonne non si toccano neanche con una rosa. Non funziona niente in sta casa, vecchia, lercia. Sto scherzando, ragazzi. Devo calmare. Rispetto per le nonne. Sacchi di patate. Sacchi di... Ma che sto facendo? Ah, ma... È una chiave. È una chiave, nonna. Non puoi tenermi chiuso. Sono troppo intelligente. Ho trovato la chiave. Non puoi fermarmi. Sono libero. Ora posso andare qui. Che bellezza. Il pony che si muove da solo. Può tornare a galoppare. Ah, vedi? Questa è l'altra parte. E' questa. Zippe, zappe. Il secreto della nonna ho aperto. Ma dove sei? Bellissima. Perché questo rumore? Mi hanno svegliato anche il cugino, il nonno, il zio e il parente. Ah, il libretto! Guarda quello dove è lei. Non sapevo io che dovevo fregargli i soldi. Per cui le nonne sono così guardinghe. Sono guardinghe perché sono anni e anni in questa vita. c'è 120 anni e avrà fatto una fortuna. E quella fortuna va la tua amica Brunetta. Il cagnolino della nonna. È un po' invecchiato. Sono rimasti solo gli ossicini. Ma che razza di meccanismi! Ma te l'ho detto che era la regina Elisabetta questa. O una, sicuramente una parente comunque. Ci sono varie cose che devi fare qui. Punto di domanda. Quello che ho io sopra la testa adesso. Eh, rituali. Rituali strani. Da nonne. Da nonne streghe. Forse non è una nonna. È una strega. È una brutta strega. È una lurida strega. So che è una strega fusibile. Ma io sono fuso. C'è una soffitta. C'è anche una cacchio di soffitta. C'è una cacchio di soffitta Itaò. Questa nonna chi la do? Ma ho trovato una chiave. Non è contenta. Mi sta avvicinando. Non va qua? E dove devo andare? Dove devo andare? Quante porte ci sono? Quante? Forse per di qua. Non ero mai andato per di qua. La cucina! Ah! Ah! Lo bevo dopo il caffè, nonna. Lo bevo dopo sto posto così. Grazie. Grazie mille. Sempre guarda quando... Ho fatto un caffettino e è saltata sul soffitto. Ma ne ha bevuto lei? Mi sa anche troppo. Ok. Abbiamo una chiave. Molto buono. Molto buono, nonna. Sei veramente veloce. Rapida. Alla tua età. Complimenti. Complimenti alla mamma, nonna. Che ti ha resa... Proprio questa è genetica. Sono tutti geni questi. Ah, cavolo. Averle di nonne così... Ti durano una vita. Sempre le belle caprette di Heidi. La nonna di Heidi. Heidi o... Ti direi... Dai. Fuori. Difesa autodifesa. Omicidio, 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 omicidio. No. Assolutamente. Non toccherei neanche la nonna con un fiore. Ma non ho detto con un piede di porco, nooo. No, 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 no. Dov'era? Quando mi dicono di sprintare, io eseguo. Quando mi dicono di sprintare, io eseguo e basta. Senza farmi domande. Proprio PUM! Parto come... Il Toppolino, Speedy Gonzales, lui, o quello dei Lumini Toons, quando vede il coyote. Si chiama sopravvivenza. Si chiama istinto di sopravvivenza. Io non ho l'istinto da morto in bara. Allora... Questo è un meccanismo. Ma adesso mi sono scordato. Allora, io ho il piede di porco, giusto? Sulle gengive io dare. Piede di porco io usare. Ahhhh! Togliamo queste vecchie travi. Quanti millenni avevano. Ah, ecco dove tenevi. Le tue belle monchichini. I monchichini che mi osservano tutti con te. Sai che potresti recitare nella parte del Joker? Cioè secondo me... Potevi chiedere tu a Todd Phillips di prenderti. Al posto di... Come si chiama l'attore? Jacqueen Fuenix. Sentilo. Un nome. Così. Non puoi che fare l'attore con un nome così. Non puoi che fare il Joker con un nome così. Apri ste vecchie porte. Dai che cigolano come le tue gambe. Che ormai non si reggono in piedi... Anzi no. Si reggono, si reggono. Le mie ormai... Le mie ormai... Stanno per tirar le cuoie. Però ho trovato l'interruttore. E posso salire nella tua soffitta. E una volta salito in soffitta che faccio? Beh... Poco a poco inizierò a prenderti tutti i tuoi vecchi averi. Si... Anche quelli di tuo marito. Tutto sarà mio. Dicino il nipotino. Nonna. Mi dispiace ma hai fatto il tuo co... Oh! No! 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 Scherzavo! Scherzavo! È brutta! È brutta quando corri! Mamma mia! Mamma mia! Devi correre! Appare! Sparisce! Appare! Scompare! Oh! Patti il cuore! Mamma mia ma loro... Lei... Non sa che io sono il massimo esperto di fuga da nonne. Sono abituato. Ormai quasi non mi spavento più. Mi dà adrenalina. Essere sul filo del rasoio. Schivare bastoni. Come Neo su Matrix. Bastoni da nonna. È il mio pane quotidiano. Ce la possiamo fare! Arzilli si nasce! Non si diventa. Ce l'ho messa tutta. Ma ho evaso. La vasaia. Si era questo il suo lavoro... Modellaaaaa... Un vaso in faccia però non me l'ha tolto Nessuno. Niente ragazzi, non devo prendere in giro la nonna, perché chi prende in giro la nonna invecchia prima, invecchia giovane. Ah, strappa il vino, tira sul prosecco, dammi il prosecco del nonno, lasciami ubriacare di gioia. Ah, sì, il prosecco secco del nonno, il disco di platino della dinastia stamimba, oh, bene, 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 cimeli di famiglia antichissimi questi, mi piacciono, mi fanno sentire più gioia, oh no, oh no, oh no, torna il cantinato, tu non puoi salire le scale, tu non puoi salire le scale, sei vecchia, sei vecchia, sei brutta, sei bu- Ah, vedi, io lo sapevo, che il mal di schiena della nonna gli impediva di salire sulle cime tempestose. Quindi ce l'abbiamo fatta come al solito, voglio dire, io, esperto di nonne, gestore delle case di riposo, bandito della pensione, sì, 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 abbiamo uno dei vari meccanismi segreti del rituale preistorico, Ora dobbiamo continuare, ormai ci siamo dentro, ci siamo dentro, me lo sento che siamo dentro. bello bello per aprire i segretoni devo infilare i chiavestelli proseguiamo la nonna dei cattivi a lei ora i cattivi hanno una nonna perché mi fai aprire 180 cassetti e non mi dai niente non sapevo non sapevo non sapevo che c'era l'orfanatropio che cavolo devo mettere qua non c'è niente ci abbatte vecchie ma l'arte è sempre quella giusta devo mettere un disco un suono una sinfonia si quella cassaforte si aprirà se metterò quella roba la andiamo alla ricerca andiamo alla ricerca di nemo cos'altro devo fare cos'altro i posti devo andare apriamo apriamo tutti i nostri segreti brunella non si ferma ho trovato un'altra chiave chiavestello sta iniziando a fare i rumorini inquietanti non mi piace quando fa così vuol dire che è molto agitata non la voglio agitare troppo io non faccio queste cose io sono un bravo nipotino non prenderai mai niente senza il tuo permesso nonna mai niente il tuo disco mi hai dato il potere era l'ultima gemma in uno schiocco di dita farò sparire tutto il tuo patrimonio dove si metteva quello è di là era il disco nella stanza del giradisco mi teletrasporto 3 2 1 metti sta bella micolonia attacca discoteca sentila sentila al mignolo come sbatte si è registrata voleva fare una gara di canto e l'ha vinta l'ha vinta la signore la chiamerò l'alto soprano spaccapicchieri sapete che lei aveva questo prezioso talento cantava così forte così bene che i bicchieri piuttosto di ascoltarla saltavano tutti in aria come le dentiere delle nonne in faccia bello vero bello ho trovato il cimelino si apriti armadio apriti zezamo è tutto mio ma davvero è incredibile come una nonna possa avere tutto questo dentro una vecchia casa cioè è pure un'ingegnera è pure un'ingegnera per costruire queste cose sotto casa sua devi essere un'ingegnera non è possibile tutte con queste cantine enormi e valgono hanno dei patrimoni incredibili io non ci posso credere non ho mai visto un patrimonio così leggendario mi sa che mi sa che mi sta seguendo che sento dei brutti passi buona buona che devo fare io qua cioè è più grande la cantina dell'intera casa io pensavo fosse un gioco veloce veloci raptor no l'unica veloce qua è la nonna io sono lento come la melma sono proprio statico estitico perché ormai ti passa pure la voglia di fare ah guarda che bella sai un sorriso bellissimo sai mi piace la nonna più bella dei sette regni seriamente come vado cioè non vuol render da lei ma non posso andare l'ha detto qua serve una chiave no si serve sempre una chiave e allora dobbiamo giostrarcela in cantina basta ti ho vista che mi aspettavi là a destra eccola 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 per fortuna ero pronto perché ti ho vista ti ho vista ti ho vista non puoi prendermi qua no 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 mi ha morso mi ha morso con la dentiera mi ha morso mi ha morso oh no devo rifare oh brutte le nonne cattive brutte mamma mia e aveva anche una presa sicura manco un leone della tanzania dai non far così sorcia dov'è eh accendi non si accende ma vaffanbago devo andare per di qua e però stavolta scappo a sinistra vero perché lei appare no non c'è più l'ho spaventata credo credo si apre elettronicamente yeee aveva le oh nonna sei comoda nonna ti ho trovato una sedia a dondolo nonna vuoi provare la nuova sedia a dondola ferma qua metti le manine che ti leggo un attimo e ti leggo una bella storia eh non la vuoi peccato come ho detto la nonna non si tocca neanche con un fiore ma non ho detto con la sedia elettrica e e e e e e sto scherzando ragazzi però voglio dire questa non è una nonna questo è un obrobio questa non è più la mia amica grumolda di tanto tempo fa non lo è non lo iessere poi ho sempre robe e cammino come un bradipo storpio senza gambe lento come l'ebola oh ha ha e luce fummo si 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 che usciamo da sta casa di melma maledetta adesso basta scherzare adesso basta adesso basta basta ho aperto la porta elettrica let's go ora stop the cap dai che sto veramente invecchiando in sto gioco io ooooo cos'hai di nuovo qui un ufficio ma se manco lo sapevi usare il computer che cosa compri a fare razza di una smemorata un'altra chiave dai mi hai rotto nonna non hai neanche fantasia ormai mi hai rotto ah si vabbè la porta è vicina fossi stato il developer avevi messo uno shortcut no è spaventosamente lungo con l'accento sullo spaventosamente sto gioco cavolo mi vuole clappare il sederino le tira di quelle sbrangate lei eh si eh si eh si lo sapevo che voleva slapparmi il sederino e lo sapevo lo sapevo che lo sapparmelo perché mi sono incastrato maffa un cuore ma io ho le gambe lunghe io ho le gambe lunghe fuori da sta cantina maledetta e ti torno in bocca tanto so che sei sparita ecco qua dove ha seppellito al nonno e almeno è stata gentile gli ha fatto una tomba dopo averlo squartato in 45 pezzi in fila dei 6 la carica dei 101 eh brandelli di carne comunque quel che funziona non si cambia squadra che vince non si infama dai 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 che ci abbiamo fatta dai 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 che ormai non ce la fa più dai 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 che l'età è andata fammi vedere lo so che lo nascondevi da troppi anni ormai liberatene nonna liberati del segreto e lascia ti prego no no la nonna non ti lascia la nonna non te lo fa vedere il segreto e ti trascina ti trascina in cucina e diventerò una nuova lasagna quindi ascoltate il consiglio di nonna bruna tutti quelli che volevano scoprire il segreto della nonna beh sono diventati il segreto della nonna ehhh